Allora, quando mi sapete che fate con la mel per fare scura, la scura diventa l'olio, rimane pianta come un tipo normale, e questo qua è il cello che in balto si fa con la scura di colore a birra con un api alla scura. Credevo che fosse una cosa più tecnica, però no, no, questo allora lo sapete. Non avevo capito, credevo che fosse una cosa di produzione. No, 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 il colore cappuccino magnifico di alcune birre è fantastico. Ma così ci sono tante gente che dicono che le birre scure non mi piacciono perché sono dolce, ma la puoi vedere da una foto prima che la compra che ti piace. Ah, sì, perché il colore è giallo, è così, ma in mezzo diciamo sempre così, perché in mezzo sono tante bine scure e dolce. Non sono uguali, però... Sì, 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 alcune sono troppo dolci, come le stout, i benghi ad esempio, o altri che sono stucchevoli. Prima dicevo appunto, quando le nocevi, che la procuratura della Triple R, che hai fatto molta zecchezza, attenuazione del pericolo del fruttato, ecco, che temperatura hai fatto? Grazie.